Tu cosa sai sul regno di Wakanda? Pastori, settore tessile e vestiti originali. Tutta una facciata. Quanto ancora nascondi? Il film è sull'epoca, ma il film è ugualmente su Wakanda. Vi vediamo T'Challa, le persone che abbiamo chiesto di rispondere, quando si è sottotitolo. Wakanda's walls have been up since its inception. Il film è il best kept secret in the world, perché hanno una cosa che il world wants. Abbiamo questa naturalizzazione che funziona da loro. Le mine in, le mine in la tecnologia. È molto sottotitato da qualcuno che ha avuto in contatto con questo. La Panthera ha bisogno di guardare per un'altra nazione, e anche considera quella nazione di quanto riguarda il resto del mondo. Per vedere un paese africano con kings e queens e warriors, è così inspiraevo. È un mondo incredibile a occupare. Steppi to the spotlight. Quattro per sempre!